Let's play Manco per il cazzo No 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 Pasqua l'altra volta Eh si infatti Comunque vi vorrei far notare che sti due burini qua hanno fatto saltare il ritratto della mamma porno Cioè è diventato... Della mamma porno? Eh si è diventato il ritratto del Grinch No 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 I ritratto di Doran Gray No è un po' verde La vita è piena di sorprese La mamma ha deciso di cambiare la vita e è diventato babbo Quindi la foto è dovuta cambiare Oppure il Grinch trance no Cioè non solo ha portato via il Natale Vi ricordo che questo è il secondo episodio natalizio Domani ci sarà il terzo Mi auguro che finiamo la mappa in tre episodi Se non la finiamo la finiamo Ok? Secondo me non ci muoviamo da qua Si già per i cinque minuti siamo ancora qua Ok Worn from the Klimb But freshly incensed You have just one thing to say Allora lo devi tradurre Sto leggendo tutta la frase prima no? Now see here your Grinch Allora praticamente ha detto che il Grinch è andato in chiesa Si è incensato e ora l'ha visto E cosa vuol dire incensarsi? Quando ti metti il cosino quello che ti manda l'incenso Quello del prete Oh incensarti La colpa è di Davids Davids è rubato tutto E poi uno si chiede perché non riusciamo a finire in tre episodi Ah ma non c'è una Ah ma non c'è una Non era una check list No erano gli obiettivi Dai fuoco alle persone Faccio E come si scende di qua? Così Che Stiamo No 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 Cado di là eh Ah praticamente hanno intrappolato il Grinch nel ghiaccio Ma nooo Ti bastardi Nooo Ma poveri Ma chi se ne frega Ma poveri Oh ragazzi io seguo Davids Davids ha capito tutto No dai non lo seguire Perché sto morendo? Che è che mi vena? Che ti picca quello dietro Oh ma si è aperta pure la porta Ma siamo tornati Ma siamo tornati indietro Se vai torni indietro Ah no no La leva quella di sotto ha aperto questa porta Quella di apertura plate Quale? Tu ti hai premuto Tu ti hai premuto la pressur plate No di qua stiamo salendo invece Leggi i cartelli piuttosto Ah devo leggere i cartelli cazzo Porca di quella miseria mi sono dimenticato Non ho ancora capito Allora aspetta un attimo Voglio fare il riassunto Cos'è la storia? Come si sta strutturando? Praticamente Si struttura così Tu inizi Devi buttare l'immondizia perché hai mangiato Ok Poi Non eravamo in fabbrica Si Perché avevi mangiato nella fabbrica Ah Poi vai dagli elfi di babbo natale Ti esplode il culo E ti ritrovi qui dentro A vedere le foto nuda di mamma Che non è una bella cosa Poi visto che hai fatto queste brutte cose Ti ritrovi imprigionato in un pezzo di ghiaccio Te credo quali hai fatto una mamma nuda Vorrei ben vedere Stiamo per mettere fino al Natale Oh mio dio ragazzi Che grande Si perfetto No ragazzi dobbiamo arrivare al terzo episodio Se mettiamo fino al Natale che facciamo domani Cioè Pasqua Ah facciamo Pasqua giusto 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 Va bene Facciamo Pasqua Pasqua No il compleanno Comunque queste sono le 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 tende rosse del Grinch Lo dice qui eh Ah non ti ricordi A me sembra il gioco di Mario Ma ti ricordi no Allora cagare Ti ricordi Nel film Eh Mario e Kluqui E la principessa sopra Doc parla da solo con le tende Ma come cazzo hai fatto a pensare una cosa così Ragazzi A me sembra un dinosauro di Ark Ma che infanzia avete avuto? Di merda Poi aspetta Mi spiega una cosa Perché la Craft in Table non la posso aprire Ma la macchina da cucire si Perché la Craft in Table è una macchina da cucire Fuggite Fuggite sciocchi C'è una Una predizione C'è un cartello in italiano Attenzione Il gioco inizia a capire la nostra lingua Oppure è a pietà di noi Oppure qualcuno è venuto prima all'ammezzo Nooo Cosa te lo fa credere? Ma dove l'hai pensato? Ok c'è un cagnolino Che sto per uccidere Non è da uccidere Ah ma no Non si fa niente Ma più così Aspetta forse lo devo sparare L'ho morto L'ho morto Ma guarda raggiunge qualcosa Dove? La città Ma io di qua non posso passare Ma dobbiamo andare di qua Che co Perché? Cosa c'è un cane? No c'è un cartello al contrario verso il muro c'è scritto tralla Tra la 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 Cane 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 Eh però si è girato Cane È visto? Si è girato Una parentesi Ma nel film si vede infatti che c'è un cane Questo è il suo cagnolino Si ma perché ce ne sono due? Perché Oh potrà pure avere una fidanzata Ah vabbè Che uno l'abbiamo comunque ucciso Oh ma qua si può andare con il cart Oh dove? Aspettate devo tradurre Non mi lasciate indietro No 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 Il peccato che io vi sti evitato dal pirla Ok ho fatto uno zoom di Davids Davids Mi portate su Ah in pratica la città R will La fabbrica è flitz fang Ma scusate No aspettate un attimo Davids era lì prima E poi l'ho visto qui Davids ti combini Adesso è la E ora Doc è caduto E' da un'ora che si provava Ah Che bel regalo di Natale Tu sei blu e loro sono grigi Prendete il cart tranne Davids Davids il Grinch dice di prendere il cart tranne te E dove ci ho fai Eh non puoi No No Il cart No lo vado a prendere Lo vado a prendere So qua pirla No il cart Dobbiamo ammetterlo però Davids è un cittone Si Perché io lo lancio di sotto e lui si riporta qua sotto Si 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 No Si 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 rai lì ragazzi lasciate uno a me di carrello dannazione sta dentro il dropper cos'è sto troiaio? cos'è sto troiaio? ma sono tornati indietro cos'è sto troiaio? cos'è? dai un micart a quello lì per favore che mi fa tristetto ne lo dai per favore passagli quel micart che hai in mano c'è ragione aspetta che sennò lo faccio cadere no rai lì prendi il carto e lo piazzi e poi ci sali con il tasto destro dai si sono sal... no ragazzi vado da una direzione opposta la pirla no no dannazione come si ferma questo posto guarda che siamo usciti noi si oh oh sta arrivando arrivo io eh aiuto le montagne russe allora io vorrei capire perché ce l'abbiamo fatta tutti no? sto avendo qualche problemina con i cart arrivo eh mi avete tolto una rotaia ne son sicuro io farò un volo della madonna si ma arrivi entro natale davvero? non è che è domani però fino al 25 eeeh scendo yeeeh madonna la vita ciao no 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 non è successo niente adesso non può venire di qua lo faccio passare perché vorrei finire prima di capodanno sta mappo lo faccio passare come passi? nooo nooo sali sali sul carrello sali nooo ho visto in diretta quello che è successo a me ho visto in diretta quello che è successo a me no aspetta ti faccio vedere no aspetta ma funziona davvero così parca 3 funziona davvero aspetta aspetta ma davis ma sei sicuro che funziona bene non sono proprio sicuro riprovaci scusa ci funziona si funziona parca di questo guarda ti do una mano ti do una mano ma mi grazie così parare ho capito ho già un cazzo di rosso se cavi i cartelli noi stiamo decidendo se rubare o distruggere i regali non so perché io già so che cosa farete i regali vanno a fuoco e no la trovi te dammi l'accendino va bene vabbè do a fuoco la casa anche questo si a fare tutto a fuoco il piromani aspetta brucia 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 piromani finiti quindi eh l'ho capito eh you'll set the fire to the ah vedi che lo diceva di mettere fuoco l'albero a fuoco cos'è quel coso grinch la casa del grinch oh oh teddy seguimi andiamo teddy andiamo 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 vi ho perso aiuto grazie amici 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 ti piace bruciare tutto eh ragazzi abbiamo lasciato per ultimo la casa estiva del grinch da bruciare no 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 aspettate non bruciate estiva è estiva la casa del grinch non è in invernale una volta si ma la diceva summer house basta no 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 mi serve per fare la screen basta sono più uomo ok allora qua dice if you burn down the hood x3 put lever here eh dobbiamo trovare una leva no ragazzi dobbiamo bruciare prima l'albero dannazione ma l'abbiamo bruciata ah ma c'è una leva che se ne ascolta sotto l'albero pirla dai fuoco e non controlli quello che bruci ma dannazione eh perché tu metti il patate eh si 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 qua brucia ancora roba comunque non vorrei dire ecco cos'è che ha statato in aria ah è giusto oh porca guarda c'è un pacco e c'è una leva dove l'hai visto scusa mia gara ah lì bravo andiamo ah mi spieghi una cosa che di che marca è sto tavolo che lo rompiti dai meloni anche qua così oh mamma mia praticamente siamo impazziti abbiamo riempito casa sua con blocchi di dinamica seaco non da fuoco prima io non ho fatto niente ok ci dice che dobbiamo andare nella nella prossima stanza a vedere cosa succede perchè aspetta ma noi credo che siamo quello lì grigiotto quello blu noi siamo allora c'è il pirla il pirla cosa è successo beh e ora dobbiamo ritrovare il ritratto di mamma perchè 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 c'era una cosa da vedere pirla guarda allora il grigio è lui il protagonista della famosissima storia la mamma è quella noi siamo questo qui quello grigio quello grigio noi ci stiamo incazzando col grinch verde perchè il grinch verde è famoso noi siamo quello grigio che non si caga nessuno e intanto quattro ah perchè ce ne sono due? si ma perchè sono tutti a fuoco? eh perchè continuo a bruciare tutti ragazzi spero che non abbia la dinamica si vabbè ma dove cazzo è passato sto spero che non abbia la dinamica spero che non abbia la dinamica se vai avanti a leggere io faccio il pompiere abbiamo una famiglia non siamo soli possiamo potremmo avere un fratello il doc è il doc è da solo doc si è solo guarda si mangia i tavoli cioè io non posso distruggere la mappa e poi voi volete piazzare la tele ovvio si no aspetta sai cosa mi sa che mi sa che quello dopo andiamo nel passato del fratello secondo me è un rewind tu dici? secondo me si eh ok tanto sta casa non dura 5 minuti vorrei me capire senti venite qua venite qua che facciamo una scrinettina prima che va tutto a fuoco venite qui no con il fuoco dietro si infani girati doc metti si vede il culo ma è più bello ok ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questo secondo episodio siamo entrati qui in questa casa del cringe e abbiamo scoperto che c'è un fratello da qualche parte e questi due che continuano a ammazzarsi qua è stato fastidio a parlare se siete arrivati fin qui ragazzi e vi sta piacendo questa serie domani ci sarà l'ultimo episodio per la chiusura di natale lasciate un like, commentate e condividete ma soprattutto l'aspetto di fare la gallina davanti a me mentre parlo bellissimo la neve si a prendere la neve no? se siete arrivati fin qui ragazzi scrivete nei commenti di hashtag il fratello brutto del cringe se volete che deviz oppure ce l'ho io un hashtag vai hashtag mammi ti colpito no dannazione hashtag sei morto vabbè hashtag random scegliete voi che cazzo di hashtag mettere ragazzi ci vediamo domani buona vigilia di natale ciao auguri a tutti ragazzi vabbè vi vi qui Grazie a tutti.